La parità di genere non è soltanto un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro. La parità di genere è la condizione necessaria per un mondo umano e sostenibile. Con il corso Eguaglianza di genere e contrasto alle discriminazioni nelle università, potrai approfondire il vocabolario sulle questioni legate alla parità di genere, imparare a riconoscere comportamenti di tipo discriminatorio o lesivo della propria identità di genere, adoperarti per promuovere quotidianamente una modalità inclusiva ed egualitaria per tutti, promuovere best practice legate all'inclusione e la parità di genere nell'università. Il corso è rivolto alla comunità accademica. Ciascuno di noi può e deve fare la sua parte per contribuire a rendere il contesto di lavoro un luogo inclusivo, in cui nessuno debba sentirsi discriminato e non valorizzato. Fai la tua parte per combattere le disuguaglianze. Segui il corso, iscriviti gratuitamente su federica.eu